E mi fanno pagare anche l'umaldimento di fiuti? Ecco ora l'ho pescato, ho pescato grosso C'è il cattrato? No, ho pescato grosso Vediamo se sia una carpa No, occhio perché questo è spizzo vestito Ma questo è il sudicio, che ottura? Non l'ha capito? Lo so La spazzatrice tende a comprimere dentro la melma A Poggiponsi hanno chiamato l'acqua a pressione per tagliare a fettine la melma c'era dentro Siamo usati una settimana nelle fogne di Poggiponsi No, tutto ne fa nulla Qui ci vuole quelle fogne a alta pressione e spaccare dentro Eccolo, eccolo, ho pescato E' tutto lì? E' pochino, è piccino E' pochino, mi riesce a pescare Aspetta, ferma Eccolo, guarda Nooo, ho risolto C'è riuscita Ragazzi, guardare per cortesia la potenza delle donne Comune di Firenze, dove sei per cortesia Ci vuole una sindacca Quadrifoglio per cortesia Dove sei? Apparisci in questo momento Anzi, sparisci perché non serve a niente No, nulla Guarda che meraviglia Sì No Guarda lì, come ti ha fatto? E c'era, dove c'è lo scarico là, purtroppo C'era questi pezzi che a rimuoverli Guarda lì Si, la meraviglia Però non ho risolto il problema Guarda qui com'è tutto cementato, capito? Guarda quanto ce n'è di questa roba Appoggi i bossi, guarda lì Guarda lì Complimenti Grazie, grazie alla pasticceria Silvano e Valentino Mettetelo sul vostro sito Metti via Paganini e angolo via Baracca Perché chi ci prova ci sceglie anche per questo